Sbrigate le formalità di rito, proclamazione e passaggio delle consegne con l'ex sindaco Umberto Di Primio, il neosindaco di Chieti Diego Ferrara è ufficialmente al lavoro, in primis per completare la squadra che formerà l'aggiunta. Al momento sono due i nomi certi di entrare nella squadra di governo, non fosse altro perché sono stati messi nero su bianco nell'accordo di apparentamento preballottaggio. Paolo De Cesare e Manuel Pantalone, in rappresentanza del polo civico che ha accompagnato Ferrara alla vittoria contro il centrodestra guidato da Fabrizio Di Stefano. Dovrebbero essere loro, a meno di ribaltoni dell'ultima ora, ad essere rispettivamente vice sindaco e assessore alla cultura. Risponde al vero il fatto che lei ha chiesto e gradirebbe la delega alla cultura? Parleremo di delega nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Ripeto, ci siamo messi a lavoro ascoltando la cittadinanza, è chiaro che faremo delle riunioni e poi si parlerà insomma di quelle che saranno le deleghe. Indipendentemente dalle deleghe io ho detto che mi sta molto a cuore quella situazione del dissesto idrogeologico della zona di Santa Maria dove ci sono circa 16 edifici a rischio, evacuazioni, alcuni sono stati evacuati e su uno in particolar modo già vi è un ordine di demolizione e dobbiamo risolvere una problematica così importante per quei cittadini che peraltro sono diverse migliaia che stanno vivendo una situazione di forte disagio. Gli altri nodi da sciogliere ruotano attorno alle cosiddette quote rosa. Il 40 per cento della giunta infatti deve essere composto da donne e al ruolo degli assessori esterni ai quali si pensava di affidare ad esempio deleghe tecniche come quella al bilancio. Dunque Chiara Zapparotto per il PD e Teresa Giammarino Perchieti Perchieti sono in pole position per un incarico da assessore così come Serena Pompiglio per azione politica. Gli altri nomi che circolano in queste ore sono quello di Luigi Febo che potrebbe essere il presidente del consiglio comunale di Chieti Perchieti, Edoardo Raimondi per la sinistra con Diego e Giancarlo Cascini per il Movimento 5 Stelle in forza dell'accordo nato prima delle elezioni anche se mai formalizzato con un apparentamento ufficiale. Ferrara sembra intenzionato a chiudere la partita della giunta in maniera rapida anche perché sono tanti i dossier che si stanno accumulando sul suo tavolo dall'emergenza Covid, dal passaggio del Giro d'Italia, dal bilancio 2019 di Teatreservizi all'incontro con i revisori dei conti.